Musica Sarà un'eccellenza a livello europeo a Baggiovara inaugurato Blu, il nuovo laboratorio d'analisi unificato, taglio del nastro invece nel pomeriggio per la nuova Cragorieri, 90 posti disponibili a partire da giugno. Sulla sanità spinge anche il candidato sindaco Massimo Mezzetti che oggi ha presentato la sede del comitato elettorale in via Canalino. Buon sabato sera, bentrovati dal telegiornale di TRC. Apriamo parlando di sanità, in particolare di un'eccellenza che sarà a livello non solo nazionale ma addirittura europeo. Questa mattina a Baggiovara inaugurato il nuovo allestimento tecnologico d'avanguardia per il laboratorio d'analisi unificato. È andata per noi Cristina Bonfatti. È stato inaugurato alla presenza delle autorità il nuovo allestimento tecnologico e strutturale di Blu, il Baggiovara Laboratori Unificati, che permetterà di eseguire esami in modo ancora più efficiente grazie a strumentazioni all'avanguardia e a professionisti formati nel tempo, in sinergia tra le due aziende sanitarie e modenesi. Il nuovo laboratorio di Baggiovara è un laboratorio strutturato non solo per dare una risposta ai bisogni dei pazienti di Baggiovara, a rispondere ai bisogni di tutti gli accertamenti di diagnostici di laboratorio, ma per tutta la provincia di Modena. In altri termini qui vengono eseguiti tutti gli esami per tutti i cittadini di Modena, dall'Alto Frignano a Finale o alla Bassa Modenese, e vengono eseguiti circa 35.000 esami al giorno per 4.000-4.500 pazienti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, coprendo tutte le esigenze. Ogni cittadino modenese riceve gli stessi esami, negli stessi tempi, con la stessa qualità. Un laboratorio innovativo ed efficiente, capace di rispondere a tutte le esigenze della diagnostica e assicurare gli adeguati tempi di raffertazione necessari. Perché se il governo continua a tagliare sulla sanità, a Modena sulla salute si continua a investire. Noi continuiamo ad investire, questo è un laboratorio di altissima tecnologia, tutto robotizzato, avete visto, è veramente un gioiello per la nostra provincia. Un laboratorio quasi unico nel panorama nazionale ed europeo che porta la sanità modenese nel futuro. Anche grazie ai sistemi di intelligenza artificiale riusciamo a fare ricerca, a fare delle analisi sull'ambito diagnostico importanti per anche validare e verificare meglio l'efficacia delle cure.